In questa settimana di pausa mi è venuto in mente, grazie a due video che ho visto, uno su TikTok, di avviare il format simile a quello che fa Caressa su TikTok. Sapete, lui si mette alla lavagna, scrive delle statistiche e poi dà i voti. E ho visto usare questa idea dagli amici di OnePiece.it su TikTok, che vi invito a seguire. E ci sono anch'io su TikTok, sotto pseudonimo di OnePiece-Profeta. E questa è tutta un'altra storia. Allora ho deciso di iniziare questa rubrica, per vedere se piace o non piace, della lavagna di Caressa applicata al mondo di OnePiece. Vedremo come lo chiamerò. Ma andiamo a vedere in questo battleboarding tecnico quali sono le voci che andremo a inserire. Forza, velocità, attacco, difesa, abilità, versatilità, intelligenza, resistenza. Avevo pensato anche di mettere bellezza il personaggio, ma dopo sarebbe stato troppo facile fare questa lavagna. Allora, Sanji. Forza, fisicamente Sanji è uno dei personaggi più forti in assoluto di OnePiece senza alcuna abilità. Con le abilità diventa ancora più forte fisicamente. Sappiamo bene come si sia mostrato in tutto quanto il manga, in tutta l'opera, delle sue prove di forza assolutamente assurde. Tanto da respingere il gong-gong bazooka di Odr che si lanciava dall'altro respingendolo e deviandolo, mentre a Zoro rimangono delle cosettine. Praticamente io direi che, rapportato ai personaggi di OnePiece, se Sanji ancora non è a livello di Imperatore, va bene, potrebbe essere così, gli metto un 9, a Zoro a livello di forza gli mettiamo un 8. A livello di velocità, Sanji è veramente uno dei personaggi più veloci di tutto il manga, tanto che è copace di scomparire, di diventare invisibile perché è veloce, non perché è la caratteristica dell'invisibilità. Quindi gli mettiamo assolutamente 10. Zoro ha sicuramente un buono scatto, quindi non è esattamente un personaggio lentissimo perché almeno sotto quell'aspetto riesce a destreggiarsi, ma nulla di più. Anche la sua corsa è limitata, la velocità di movimento nello spazio è limitata, va molto in difficoltà con un bersaglio mobile come ad esempio King, ma anche se è movente come Kaido, non lo riesce a beccare da 5 centimetri. Diciamo che quindi la velocità per Zoro è assolutamente 7. Per quanto riguarda l'attacco, a mio parere qui Zoro si merita un 10, in quanto le spade sono un'arma molto importante perché permette appunto di fare anche ferite superficiali, considerando poi che è dotato di armi molto forti, tra cui Emma, l'attacco è portato al massimo anche della capacità di infondere, di usare il Ryo, quindi il flusso di Aki. L'attacco di Sanji non diciamo crea particolari problemi da ferita, è un attacco che ha bisogno di ripetizione e tempo per fare effetto, cioè se Zoro ti fa un taglio comunque ti indebolisce, se Sanji ti colpisce in un punto diciamo così non vitale, il colpo non è particolarmente efficace, quindi io darei un 8 a Sanji, proprio perché lo condisce col fuoco il suo attacco e adesso con una maggior durezza, però 8, è proprio il tipo di cosa che è diversa. Per quanto riguarda la difesa, io direi che il possedere le spade ti mette sicuramente in una situazione di buona difesa, perché sono armi che appunto resistono anche ai colpi degli avversari, se non si spezzano, se sono dure, se sono armi efficaci, e quindi io a Zoro gli darei un 9 netto di difesa, proprio perché può riparare il suo corpo con le armi, quindi ha un'ottima difesa, diciamo che non gli diamo 10 perché abbiamo visto che in realtà con alcuni colpi che poi quando li subisce va in serie difficoltà, Sanji potremmo dire che la sua difesa è praticamente inesistente, era praticamente inesistente, se non appunto il comune Aki dell'armatura, direi però che con il nuovo potenziamento che gli permette di distruggere una spada con una guancia e addirittura resistere a colpi ben più duri, io direi che resiste a una spadata di un sottoposto di una superstar di Kaido, quindi direi difesa, no, facciamo pari, difesa pari in questo momento secondo me. L'abilità, bisogna vedere in realtà come sarà messo Sanji in futuro, perché per il momento non capiamo se il potere fosse momentaneo, se è rientrato o meno. Abilità, l'abilità di Zoro è un'abilità che performa con tre spade, quando ne ha di meno diventa già più comune, con le spade ha l'abilità comunque del re dell'Aki conquistatore. Ora, anche qui non sappiamo esattamente se questo avviene solo grazie a Emma o se l'abbia sbloccato grazie a Emma del tutto e quindi può usarla a piacimento. È un'abilità sicuramente importante che ancora non sa gestire, pare lo abbia spostato parecchio. Direi che però come abilità gli diamo un... io direi 8.5, perché ne è una di fondo di abilità. L'abilità delle tre spade, di spada, dai, riesce anche però a rimanere in aria sparando un fendente forte, riesce a sparare dei fendenti a distanza, io direi 9, direi assolutamente 9. Per quanto riguarda le abilità di Sanji, la supervelocità che gli permette di scomparire, il fuoco, la rigenerazione, il saper volare, sono tante abilità. Però se qua dovessimo dire, cioè porti un'abilità soprattutto al massimo, direi che qui l'abilità che porta al massimo Sanji potrebbe essere appunto il fuoco, che mi sembra un'abilità più... meno brillante del re. Diciamo che questa è un'abilità da 7, il fuoco, anche perché abbiamo visto che si può usare... Certo è un fuoco molto più caldo, è un fuoco... facciamo quello che vogliamo, l'abilità di volare è utile magari per aumentare la velocità, caricare ancora di più il colpo, però diciamo che non ha una tecnica che è proprio... quando la usa lo scontro è finito, diciamo così. Versatilità, quindi la capacità di combattere con più tipi di avversari e in più contesti. Io direi che qui siamo... gli diamo un 7 a Zoro, perché seppur magari gli dovevamo dargli di meno, in qualche modo può cavarsela, magari contando un po' sulla sua sottovalutazione, come è successo a King, che praticamente King si è avvicinato a lui proprio per farsi dare qualche spadata, altrimenti non lo prendeva mai, però la sua avversarietà in realtà abbiamo visto che contro gli avversari veloci, che volano, che sono un po' astuti, lui va parecchio in difficoltà. Già ha bisogno di avversari che combattono in modo più netto e pulito, diciamo. Per quanto riguarda la versatilità, beh, qui Sanji, secondo me, è superiore perfino a Rufi, ed è superiore a tantissimi personaggi, diciamo che per me il massimo della versatilità di combattimento potrebbe averla, quando lo vedremo, Goldroger, di quelli che abbiamo visto fino ad oggi di combattenti versatili, forse direi che King è molto versatile. Io direi che chi, sì, diciamo che già avere il frutto ti priva di un contesto, quello acquatico, mentre Sanji abbiamo visto che esce dalla bolla, resiste tantissimo alla pressione, io direi che versatilità, Sanji 10. Per quanto riguarda l'intelligenza, Allora, se a Sanji diamo sicuramente un 10, definito genio, vabbè, l'abbiamo visto, diciamo che qui potremmo considerare l'intelligenza in combattimento, l'intelligenza in combattimento è veramente altissima di Sanji. Cioè, in combattimento anche nella guerra, no? È molto perspicace, riesce a capire le situazioni, a gestirle sempre molto bene, a capire qual è il combattimento che va fatto. Secondo me questa Zoro manca. So che Zoro molti lo considerano stupido, però si è dimostrato in qualche occasione di saper pensare allo scontro, di avere qualche iniziativa. Penso, ad esempio, l'idea della X sul braccio fu di Zoro, quindi un 7 comunque glielo darei. Poi, per quanto riguarda la resistenza, diciamo che Zoro sembra tanto resistente, però è anche vero che avendo una difesa molto molto alta, da sempre, grazie alle spade, cioè quando l'abbiamo visto poi essere ferito, eccetera, accadeva e subiva i danni per le saghe successive. Ricordiamo che Bartolomeu non lo voleva uccidere, tant'è vero che Zoro lo ringrazia, lei sulle Sabaudi, Mioc non lo voleva uccidere perché vede lui nel potenziale, diciamo che 9 credo sia giusto, cioè Zoro non è uno che quando cade poi si rialza, adesso ho avuto bisogno di droghe per farlo, ad esempio. La resistenza di Sanji è sicuramente mostruosa, adesso col power up direi che è ancora più mostruosa, cioè la capacità di rigenerarsi addirittura, abbiamo visto che lui è in piedi e nel conflitto in questo momento, nonostante abbia combattuto contro King e Queen allo stesso momento, poi ha affrontato un intero combattimento con Queen, che comunque di colpi, insomma, gli erano dati, adesso aveva subito senza ripararsi addirittura dall'Aki i colpi di Black Maria, io potrei dire che ad oggi, con tutto quello che è il personaggio oggi, gli vorrei dare 10, gli vorrei dare 10, ma in realtà se lo paragono a Big Mom e Kaido, beh, Rufi è il top, che sembra giusto mettere un 9, avrei voluto mettere 10, però devo ancora capire bene questo power up, se è scomparso, se c'è, se non c'è, sembra che qualcosa sia rimasto, quindi andiamo a fare il totale, quindi 19, 27, 27, 3, 36, 36, 4, 43, 53, 63, 72, pare, ok, qui abbiamo un 15, 25, 35, 45, quindi 43, 50, 57, e 3, 66, 66, sì, mi sembra che questo sia il giusto, la giusta differenza tra Sanji e Zoro, fatemi sapere se c'è qualcosa che non vi torna, siete oggettivi come lo sono stato io, e fatemi sapere qui sotto, qual è il prossimo Valter Boarding, che dovrei fare nel caso appunto, tutto questo vi sia piaciuto, ciao belli, grazie a tutti, ciao, 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 Grazie.